442 Vai! Grazie a tutti! Calambatura Serena Monachino, passaggio di 1-0-2-95, forza ragazzi! Sempre Monachino davanti, per favore lei Micioti-Azzaro nell'area di previazione. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Prego l'arrivo per il vostro applauso, per le protagoniste del vostro cliente. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!